C'è anche l'ex ministro per gli affari regionali ed ecchesi sindaco della città di Monasterascia Maria Carmela Lanzetta tra i 13 indagati per i quali la procura di locri ha chiesto il rinvio a giudizio con le accuse a vario titolo di falso occultamento di documenti, peculato e distrazione di risorse. L'indagine del sostituto procuratore Ezio Arcadi che coinvolge anche tecnici, dirigenti comunali regionali ed imprenditori e quella relativa ad un finanziamento regionale destinato all'ottimizzazione del sistema fognario di Monasterace al depuratore consortile di Camini. Gli indagati che dovranno comparire dinnanzi alle gruppi di locri alla prima udienza preliminare già fissata per il prossimo 21 febbraio sono Alessandro Amato, Domenico Brizzi, Giuseppe Caminiti, Giuseppe Carnuccio, Bruno Cundari, Gerardo De Agostino, Caterina De Nise, Salvatore Epifanio, Giuseppe Graziano, Bruno Gualtieri, Maria Carmela Lanzetta, Vito Micelotta e Domenico Sodaro. Per la procura di locri sarebbe stato speso 1.600.000 euro senza che nessun risultato sia stato conseguito per l'interesse pubblico, tant'è che ancora oggi Monasterace Superiore sversa per interi liquami ubicati in pozzi al di sotto del ponte che attraversa la fiuma Raassi e la condotta di collegamento fra la frazione Campo Marzo e Monasterace Centro è seriamente danneggiata all'altezza della fiuma Raassi. Altro contesto simile è quella Monasterace Centro che continua a smistare i liquami nel vetusto depuratore ubicato in contrada Lambrosi. Una parte di questi, sostiene l'EPM, viene sversata in una stradella interpoderale da dove poi finisce nella fiuma Raassi Laro. Inoltre, per come contestato dalla procura Locrese, le attrezzature elettromeccaniche necessarie alla messa a regime del sistema, pur risultando agli atti acquisiti al procedimento come realizzate all'ispezione del tecnico incaricato dell'ufficio, risultano assolutamente mancanti ed anzi asportate residuando esclusivamente qualche raro quadro elettrico. Il PM ipotizza che alcuni funzionari regionali che avrebbero dovuto vigilare sulla regolare esecuzione dei lavori e sul rispetto della convenzione stipulata con il Comune di Monasterace omettevano qualsiasi tipo di controllo a loro riguardo, sia dal punto di vista formale che sostanziale sulla complessiva funzionalità delle opere a fronte del progetto del finanziamento concesso, tutte ipotesi d'accusa naturalmente ancora da dimostrare in un confronto dinnanzi a un giudice terzo.